Un argomento molto complesso. Scuola del Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti Dali. Vedo che state affrontando un argomento molto complesso con la guida del fratello Kempis. Come ogni cosa complessa, affrontatelo con semplicità, ricordandovi, figli cari, che anche questo che può sembrare tanto diverso, in effetti non lo è. Riconducete questo argomento della possibilità dell'individuo di seguire una serie di fotogrammi costituente una variante, alla possibilità che ha l'individuo di agire in un modo anziché nell'altro. Se ha questa possibilità e agisce in un modo anziché nell'altro, ciò che egli fa ha una conseguenza, e se ciò ha una conseguenza su creature, egli muove una causa che avrà un effetto su lui stesso. Ma se la variante esiste, vuol dire che entrambi i rami di questa variante hanno un identico peso ai fini degli effetti cosmici. Ecco perché questi effetti non si propagano fino a far apparire il cosmo come qualcosa di assai più complicato di quello che è in realtà. Guardate questo problema con la massima semplicità, tenendo presente tuttavia che esiste il principio di un fatto esistente, secondo una variante, che può essere sentito da una creatura e non sentito da un'altra creatura ugualmente protagonista. La quale altra creatura percorre invece la variante di quel fatto essente quella variante. Vedete dunque come questo può conciliarsi con quanto prima vi è stato detto. Questo è naturalmente sempre che l'argomento vi interessi e voi vogliate andare avanti nella comprensione dell'insegnamento. Ricordate che è, andando oltre, che si comprende sempre più, che si comprende ancora di più nella sua essenza la legge di causa e di effetto, la legge di evoluzione, la necessità dei cicli generatori. Grazie.